Il 21 dicembre 2017 Il 21 dicembre 2017 ha recuperato le armi. È dunque questo un passaggio fondamentale per ricostruire uno dei delitti più efferati degli ultimi anni. . Dopo le riduzioni di pena, e le assoluzioni dello scorso APRILE, ecco che si stringe il cerchio attorno ad una quarta persona. . Carlo Lorusso, ha spiegato Mariano Torre, come riportato da Roma, ricevette una lettera da un detenuto, che stava in carcere insieme ad Antonio Genidoni e Fabio Cardillo, e venne a sapere, che Pasquale Izzili stava aiutando per portare a termine il suo omicidio. Carlo quindi decise che Pasquale Izzili doveva morire in quanto si apprestava a fare la filata ai suoi danni. . Izzili doveva essere ucciso già mesi prima, in occasione di un precedente permesso premio, ma non ci organizzammo in tempo. La sera prima, insieme a Luigi, andaui da Carlo per organizzare il da farsi. . .